Teramo mette finalmente un freno all'invasione di Piccioni, soprattutto in centro storico. L'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare Lovistop, un contraccettivo per volatili a forma di chicchi di mais che sarà somministrato attraverso distributori automatici in due punti strategici della città, Piazza Martiri e la zona più periferica del ponte a catena. Una decisione invocata da anni da parte dei residenti che subiscono il degrado delle proprie abitazioni a causa del guano di questi uccelli che vivono e nidificano ovunque. Abbiamo cercato di individuare una soluzione che potesse essere risolutiva del problema ma soprattutto a lungo termine. Questa è diciamo una scelta innovativa dell'amministrazione perché presenterà un particolare becchime sul territorio, ci sarà a disposizione un particolare becchime inserito tra l'altro con dei contenitori appositi proprio al fine di garantire un mangime antifecondativo per questi piccioni. Iniziando da oggi il trattamento con il chicco contraccettivo sino ad ottobre, secondo stime plausibili a Teramo si potrebbe ottenere una riduzione del 30 per cento delle nascite dei colombi di città. Nel giro di quattro anni la loro presenza dovrebbe diminuire del 50% visto che l'infertilità riguarderà maschi e femmine. In quanto tempo si vedranno gli effetti? Bisogna avere pazienza come tutte le cose la natura necessita dei tempi diciamo medio lunghi e scendiamo nel dettaglio diciamo che una diminuzione di circa il 30 per cento della popolazione trattata sia già dal primo anno se il trattamento viene fatto rispettando diciamo i canoni di un'annualità e mi spiego meglio dovrebbe iniziare in marzo come sta accadendo qui a Teramo e terminare alla fine di ottobre. In queste condizioni se tutto va per il meglio però in natura non è così banale che tutto vada per il meglio comunque ci cerca di fare del nostro meglio e in queste situazioni si assiste a una diminuzione di un 30 per cento medio. E gli ambientalisti cosa ne pensano del trattamento contraccettivo per i piccioni? Gli esperti precisano che non è un farmaco nocivo anzi inoltre non avrebbe alcun effetto sui mammiferi escludendo il rischio per gli altri animali di affezione se mai assaggiassero per sbaglio quello strano chicco di mais.